Oggi 14 giugno 2021, eccolo l'aiutante di questo bellissimo orto che ho di fronte a me, l'aiutante, ma l'orto è suo, devo dire che dall'anno scorso è stato molto migliorato, ha tolto di fianco tutte le sterpaglie, merito di questo ragazzo che studia la botanica, di nome Matteo, è ottimamente bravo, io lo lodo e devo dire che questo prato, adesso lui mi spiega cosa c'è seminato, dimmi che pian... Allora questi sono tutti i fagioli, quelli nani. Fagioli nani, allora non ci metti il bastone. No, no, questi no. Perché quelli dell'anno scorso, ti ricordi? Sono le bambici che azotano il terreno. Ma ti ricordi quelli dell'anno scorso che sono caduti? Sì, sì. Erano fagioli alti? Invece questi sono quelli rampicanti che si arrampicheranno sul grano turco. Ma sempre che verdura? Fagioli, questi, fagioli e grano turco. E come mai cambiano le foglie così tanto? Perché questi sono quelli rampicanti, quelli sono quelli... Allora devi metterci... No, questo è il grano turco, questo. Questi sono i fagioli rampicanti. Ho capito, allora, finora ho capito. Ma è grande come metri quadrati, ettari. Quanto è quest'anno? Sì, sono... Ottanta? 200 metri quadrati. Sì, 200? Sì. Allora, poi dimmi, spiegami tutto, spiegami, dimmi tutto. E tu hai studiato... Quella lì che piante sono? Il grano turco fa da tuttora i fagioli rampicanti. Il fagiolo rampicante ha azotato il terreno che ha bisogno del grano turco. Ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito. Dimmi, dai, vai. Spieghi. Dove sono le patate? Questa, questa è le patate. E allora grazie alla verdura che mi hai dato oggi. Poi vado a casa, stasera la mangio. Grazie. Che bel fresco c'è qua in Brianza. Veramente ottimo. Là cos'è quel cemento che c'è là? E quelle sono tutte le macerie che ha lasciato il reflietto. Le ferrovie, devono venire a togliere le trame. Sì, ma perché? C'erano i binari vecchi o perché c'erano... Sì, sono travestine, quelle di cemento. Ma allora appartengono al 900. Può essere. Allora abbiamo finito? Sì. Ok, grazie della verdura. Adesso prendo il treno di ritorno. Ciao, Matteo. Ciao! Ciao! Grazie.